Continuano le ricerche di Giovanna Pulcinetti, la donna 33enne scomparsa pochi giorni fa. I carabinieri stanno perlustrando tutta la zona industriale e le campagne limintrofe. Questa esperienza ti gratificherà in tutto e per tutto. È possibile avere un caffè a Villa Chantal? Vieni. Ti aspetto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501